Nel 2020 l'anno della maturità, con un format rivisitato a causa della pandemia. Ma l'idea del ristorante diffuso con il coinvolgimento di oltre 30 locali della città si è rivelato più che vincente. Quella dello scorso anno è stata infatti un'edizione da record. E così per la diciannovesima, in programma a Fano dal 10 al 12 settembre, il brodetto Fest ha deciso di ripartire da dove c'eravamo lasciati, tra conferme e grandi nomi, per promuovere al meglio la famosa zuppa di pesce dell'Adriatico. Mai come quest'anno ci chiedono di fare un bel festival, un festival ancora più maturo, un festival che dimostri di essere vicino in un momento di tragedia. A me non piace parlare della pandemia, però credo che il festival quest'anno ricalcherà le orme della passata edizione. Perché? Perché nella sventura della pandemia abbiamo creato, Confesercenti ha creato un'opportunità molto importante per tutto il mondo orecca, il mondo della ristorazione, ma non solo, per tutto il comparto. Perciò in un momento così abbiamo fatto lavorare tanti ristoratori per i quattro giorni. Un dato su tutti, in quei giorni il pesce non si trovava, non si trovava del pesce a Fano né nei punti all'ingrosso né al mercato itico. Questo vuol dire che è già un segnale di successo per un'iniziativa come questa. Al Lido di Fano continueranno a sfilare i grandi chef internazionali, ci saranno tanti eventi legati, sempre naturalmente rispettando le regole, perché la cosa più importante ci sarà la presenza di tanti personaggi famosi, chef stellati, ma anche del mondo della cultura. Non mancheranno il palabrodetto, le iniziative dedicate ai bambini, le uscite in barca e ci sarà anche ampio spazio per la Moretta, attraverso degustazioni, masterclass, grandi ospiti e la prima competizione nazionale tra baristi a lei dedicata, Moretta in Cocktails. La Moretta quest'anno avrà un occhio particolare all'interno del brodetto Fest, perché riteniamo che questa bevanda, nata a Fano come tutti sanno, ma oggi è apprezzata un po' in tutta la regione, un po' in tutta la costa adriatica, credo che meriti un occhio di riguardo. Un ricco programma dunque per promuovere le bontà del nostro territorio e di conseguenza il territorio stesso. In questo periodo così difficile ha veramente tirato fuori un'innovazione, quella dell'aperta collaborazione con tutto il mondo della ristorazione, che ha fatto veramente la differenza, per cui siamo molto contenti di questo modo di operare, l'abbiamo studiato, l'abbiamo voluto e abbiamo portato questa innovazione, quindi una manifestazione che oltre a momenti di discussione, anche di talk show, di cooking show, riguardanti proprio i nostri prodotti tipici, quindi il nostro brodetto, ma anche il nostro bianchello, la nostra moretta, quindi tutti i prodotti della gastronomia locale, fa anche in modo che la città possa così esplodere in quei giorni, perché la gente viene in visita alla nostra città, può degustare i nostri magnifici prodotti, grazie a collaborazione appunto con i ristoranti, ma anche vedere le nostre bellezze. Una manifestazione che noi riteniamo debba essere sempre di più strategica, di carattere nazionale, in passato io ho lavorato affinché diventasse anche finanziata e contribuita e patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, oggi da Vice Presidente della Regione, con Delega dell'Agricoltura, è davvero un grande piacere essere qua, perché parliamo di pesca, parliamo delle difficoltà dei pescatori, parliamo anche delle opportunità che hanno i ristoratori, con confesercenti, di far conoscere un prodotto che ci caratterizza. Questo prodotto vorremmo che diventasse un ambasciatore delle marche e fosse sempre di più attrattivo per un tipo di turismo che va verso questa direzione di essere sempre più emozionale e legato all'enogastronomia, quindi come Regione riteniamo che questo evento sarà sempre più importante nel differenziare l'offerta che siamo in grado di dare ai turisti.